Samuel Sterna numero 23, il bene più grande. Tutto quello che cercate in un fumetto horror da edicola. C'è lo splatter in ogni dove e c'è una storia di un'amicizia che si spezza. Wabalabadabdabe, bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Sterna, che in questi mesi sta per portarci a una soluzione finale di quella che si può dire, non so, il finale di una prima stagione sterniana in cui ci sarà una grande guerra, ci sarà una grande lotta dove appunto si combatterà per il bene più grande. E voi da che parte starete? Perché presto ci saranno anche due fazioni insospettabili. Cioè, sospettabili perché ce l'hanno dette, però insospettabili in teoria, se fossimo stati nel numero uno. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video che vi frega, di controllare anche le altre playlist, magari c'è qualcosa che vi può interessare, di condividere il video con tutte le persone che hanno un amico prete irlandese, di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questa storia e secondo voi come andrà a finire nei prossimi numeri. Vi ricordo anche che ci sono anche gli altri miei social qua sotto in descrizione, come link cliccabili, iscrivetevi. Dunque, Samuel Sterna numero 23, il bene più grande. Parto subito con la copertina della nostra ormai assodata Trinità di Vincenzo, Tanzillo e Piccioni. Ormai li ho imparati quasi a memoria, li guardo, ma li so dire a memoria. Vorrei nominare la copertina perché c'entra tantissimo con la storia che c'è all'interno, a differenza magari di altre copertine, nel senso che proprio è una parte della storia riportata nella copertina anche se c'è qualcosa di diverso all'interno. Adesso andiamo a vedere. La storia parte nel modo più, diciamo, banale, consueto di quella che potrebbe essere un'avventura, disavventura di Samuel Sterna e padre Duncan. Padre Duncan con cui ultimamente Samuel Sterna non ha passato poi chissà che avventure nei numeri scorsi, l'abbiamo visto più in solitaria, l'abbiamo visto più magari insieme ad Angus, ma con padre Duncan era un po' che non vedevamo, un classico esorcismo di una povera bambina, tipico stereotipo che ci ha dato la cinematografia internazionale con l'esorcista e poi altri film che sono seguiti dall'esorcizio all'esorcismo di Emily Rose, a Scary Movie 2, eccetera, eccetera, per nominare delle perle altissime. In un esorcismo rituale, vediamo che Samuel Sterna è già totalmente cotto, totalmente pieno, in senso, non è senso che ubriaco, totalmente stanco di tutta questa storia, di tutta questa vita che sta vivendo, di tutta questa battaglia che sta combattendo, anche alla luce di quello che ha visto nel numero scorso, alla luce di quello che ha visto quando ha toccato l'angelo, quando ha visto che c'è qualcosa di più grande là fuori da combattere, sta seriamente pensando di allearsi con l'agenzia, con Singularity, per combattere una guerra, anziché andare a combattere le battaglie porta a porta, come lui stesso dice a padre Duncan. Padre Duncan invece, dal punto di vista di padre Duncan, è diametralmente opposto, dice tu non devi andare a combattere una grossa guerra dimenticandoti delle persone, dei piccoli problemi di tutti i giorni che hanno le persone, perché è lì che tu puoi fare la differenza, è nei piccoli gesti quotidiani che riesci a dare la tua parte, il tuo contributo nel grande disegno. Proprio perché se vai a combattere una guerra, poi quelle persone lì ti sembreranno insignificanti, piccole, perché ti toglieranno tempo alla tua guerra molto importante, ti faranno svoltare la testa da un'altra parte. È un po' anche la metafora di quelli che magari fanno carriera, pensando di fare del bene alle povere persone, poi dopo che sono in carriera da tanto tempo, non si occupano più di quei problemi, perché credono di vedere un quadro più generale e non riescono più a occuparsi dei problemi piccoli. Ecco, abbiamo questi due tipi di fazioni. A me ha ricordato molto anche, so che lo nomino spesso, mi ha ricordato molto il tema della stagione 2 di Angel, lo spin-off di Buffy. Non so se amate il personaggio di Angel, il vampiro con l'anima, ma se avete modo, vi consiglio di guardare questa serie e la trovate su Disney+, adesso ci sono tutte e cinque le stagioni. Nella seconda stagione si parla proprio di questo tema, di Angel che è stanco di combattere con i suoi pochissimi mezzi, anima per anima perduta, e vuole andare a combattere proprio una guerra, vuole andare all'inferno a distruggere il problema alla radice, ma si rende conto poi che non ce la fa, non c'è un senso più grande a tutto questo, e proprio perché non c'è un senso più grande a tutto questo, ogni piccola battaglia è importante. Vediamo due storie molto diverse, in solitaria, sia per Samuel Sterna che per padre Duncan. Quando appunto Samuel Sterna si allontana, lasciando un padre Duncan a, diciamo, piangere nella pioggia, questo disegno è spettacolare, non lo mette a fuoco bene, ecco qua. Le espressioni che ha padre Duncan in questo numero sono commoventi, complimenti davvero tanto a Luca Lamberti, il disegnatore di questo numero. Samuel Sterna andrà a combattere appunto con l'agenzia proprio in concomitanza di quello che è successo da qualche parte in Sud America. Si è aperto come una sorta di buco nero, una sorta di buco dell'ozono verso legione apparentemente, verso l'inferno. Samuel Sterna decide di andare con l'agenzia per cercare di dare una mano, di fare quello che si può in un punto molto caldo dove c'è un problema molto grosso. E devo dire che non è neanche la parte più importante della storia, diciamo che è quella un po' più visiva, quella dove Samuel Sterna vede gli orrori più grandi, uomini distrutti, in senso fisico del termine, uomini devastati dall'essere stato a contatto con questa sorta di buco nero. Vediamo i demoni, dei protodemoni che scendono da questo buco e a differenza della copertina dove Samuel li prende per il collo, vediamo proprio che questi protodemoni spezzano in due le persone. D'altro canto invece vediamo padre Duncan che per una volta tanto da solo deve compiere un esorcismo senza l'aiuto di Samuel Sterna. e lo vediamo quasi impacciato nonostante comunque tutti i preti compiono un esorcismo con il rituale cattolico senza certo bisogno di un Samuel Sterna accanto e quindi lo vediamo un pochino arrancare perché non era più abituato a utilizzare il rituale cattolico per esorcizzare una bambina. Quindi lo vediamo un attimino camminare con i piedi in due scarpe, uno con il metodo Sterna che però non è suo e uno con il metodo ufficiale. Quando inizia un attimino a prendere di nuovo la mano su quello che sa e deve fare lui in quanto sacerdote vediamo il classico esorcismo sullo stile dell'esorcista. Non è importante tanto l'esorcismo in sé che comunque abbiamo visto fin dagli anni 70 un rituale di esorcismo verso una bambina in questo modo ma è importante quello che la bambina, il demone all'interno della bambina comunica a padre Duncan ovvero cerca di insinuare il seme del dubbio in padre Duncan e quello che io ho percepito in questo numero in questo dialogo con padre Duncan è purtroppo quello che si è realizzato nelle ultime tavole. Padre Duncan si chiede come è possibile che una bambina così piccola abbia sviluppato già un demone così potente e in questo numero non ci è dato saperlo, non è spiegato perché ai fini di quello che ci vogliono raccontare Fumasoli e Filadoro non è importante tanto questo quanto appunto il dialogo tra il demone e padre Duncan però devo dire qua non siamo su Dylan Dog qui alla fine noi fan ci teniamo a capire perché nella mitologia esterniana sia successa una cosa del genere e non so se lo scopriremo nel prossimo numero anche se lo spero francamente sono molto incuriosito su come una bambina così piccola possa aver sviluppato un demone così grande ma appunto al di là di questo ci si vuole far concentrare su questo dialogo che sta lentamente portando padre Duncan alla dannazione vediamo le scene classiche da esorcista in cui la bambina vomita addosso al sacerdote poi vediamo invece nella scena tra Samuel Stern e l'agente Gillian o Gillian non ho ancora saputo come si pronuncia dove c'è una piccolissima almeno io l'ho interpretata come una piccolissima frecciatina verso il cugino inglese verso Dylan Dog in cui Gillian dice a Samuel Stern ti vuoi mettere un cappotto o devi mantenere il tuo look e qua ci viene mostrato come Samuel Stern non si fa affatto problemi a mettersi un cappotto dei vestiti pesanti se dovesse avere freddo allo stesso tempo ci mostrano come un Samuel Stern prende degli appunti su carta con carta e penna ma non certo perché è tecnofobico come un Dylan Dog pre-reboot ma semplicemente perché al Daryl era pieno di taccuini e li vogliono consumare quindi due frecciatine all'indagatore dell'incubo de no altri nella storia principale appunto Samuel Stern ha a che fare con un problema molto grande che viene esaltato tantissimo da una splash page a due pagine e anche altre rappresentazioni davvero molto grosse molto grandi per dare l'idea del problema della gravità del problema allo stesso tempo anche nella storia di Padre Duncan vediamo una splash page molto imponente con la chiesa di Edimburgo dove c'è appunto Padre Duncan che si è rifugiato a pregare e vede persino nel volto di una suora un'entità demoniaca non ho capito bene se c'è davvero un demone anche in quella suora o è Padre Duncan che è ancora traumatizzato dall'esperienza con la bambina e vede diciamo demoni ovunque o forse proprio alla luce di quello che vedremo alla fine i demoni non sono tanto al di fuori degli altri ma è lui che sente il demone dentro di sé che gli parla da Samu esterno dato che il problema sono grossi hanno aperto una task force appunto con una ricercatrice ed ex militare un sensitivo e uno un esperto in meditazione che cerca appunto con il potere della mente cerca di tenere lontano i demoni sostanzialmente di creare un campo di forza è bello vedere questa task force non so quanto durerà mi puzza tanto di suicide squad questa cosa però per ora non è ancora morto nessuno guardate un'altra fantastica splash page con i demoni che proprio piovono da questo buco che appunto penso sia proprio un portale verso legione e sempre botta e risposta a questa fantastica illustrazione con l'esorcismo proprio mostrato a piena potenza il demone che possiede la bambina va proprio a toccare delle corde molto pesanti per padre Duncan parla di tutte le persone che ha perso in passato di persone su cui padre Duncan si sente in colpa pensa di avere le mani sporche di sangue per queste morti si nomina l'ira la guerra di religione tra l'irlanda e l'inghilterra che probabilmente potreste conoscere se avete letto anche Dylan Dog nel numero 200 Lily Connelly era appunto una terrorista dell'ira era un attivista dell'ira che combatteva gli inglesi addirittura il demone parla citando il modo di parlare di Gesù nei Vangeli ovvero usa il termine in verità ti dico in verità ti dico è il modo in cui parla Gesù diciamo è un po' la catchphrase di Gesù nel Vangelo se vogliamo dirlo in stile moderno non so se è una citazione di Fumasoli e Filadoro a questo o è proprio il demone che vuole prendere in giro padre Duncan nominando appunto questo metodo questo modo di parlare di Gesù doppio finale sconvolgente finale che non è un finale perché continua nel prossimo numero il prossimo numero che si chiamerà semplicemente Duncan anche se devo dire io avrei chiamato anche questo numero Duncan perché davvero si entra proprio in intimità con il personaggio di Duncan come non mai davvero l'avrei quasi chiamato Duncan parte 1 anche questo perché è davvero bello però vediamo magari nel prossimo si entra ancora di più nella mente nei sentimenti in quello che prova Duncan comunque finale cliffhanger per entrambi abbiamo un Samu esterna che pare non dico soccombere nella battaglia ma comunque è privo di sensi e quindi il numero si chiude con un Samu esterna totalmente privo di sensi quando ha cercato di affrontare questo buco che porta verso legione e padre Duncan invece che non ve lo dico ma se lo avete letto lo sapete come nel peggiore degli stereotipi dei film sugli esorcisti sta per perdere questa bambina che tra l'altro gli fa una sorta di dono gli mostra come Samu esterna vede il mondo là fuori e noi stessi noi lettori vediamo come vede Samu esterna le ombre là fuori dove vede una sorta di filo una sorta di filo chiamiamolo quasi di petrolio un filo scuro che collega tutte le persone tutte le ombre a qualcosa in alto è come se fosse una nube di fumo sopra la testa e questo rappresenta l'ombra delle persone e così Samu esterna vede tutto il mondo e padre Duncan si rende conto di quanto sia pesante possa essere pesante e vivere in questo modo tutto questo porta padre Duncan a sviluppare un suo demone personale quindi nel prossimo numero vedremo una lotta tra Samu esterna e padre Duncan o tra Samu esterna e un padre Duncan con un demone all'interno è un confine sottile ma c'è un'enorme differenza vedremo se il grosso di questa guerra verrà rappresentato proprio da due amici che combatteranno in questo modo bene grazie per avermi seguito fino a qui io come sempre con l'inchino con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video continuate a seguire la rubrica Samu estern perché presto potrebbero esserci delle sorprese arrivederci vi saluto 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 vi saluto